e mi son chiesto perché già perché la gente paga fino a 2000 euro per rivedere cantare assieme Albano e Romina Power al di là della facile scontata e anche sana ironia questa è la spiegazione filosofica culturale, sociale, radicale, chic trash e minimale che mi son dato perché ci piace l'amore da cartolina e sei ingiallita ancora meglio la nostalgia canaglia arriverà prima ci piacciono gli ex portatori di un qualsiasi sentimento pronti a mettersi in posa un sorriso, un clic e dopo ognuno per la sua strada ma tu questo fai finta di non saperlo tu ti fermi un attimo prima pur di non vederlo come se gli addi non potessero esistere ma ci fossero solo gli arrivederci e quindi mi sono convinto che quella gente non paga per sentire una canzone paga perché vuole vedere i giri strani che fa un amore paga per l'illusione che tutto possa tornare paga per vedere gente che recita un copione dicono che la vita sia un film, no? beh, ora ne avete le prove grazie a tutti grazie a tutti